Stiamo avendo successo, sono da quello dell'intervista al pubblico. Sì, veloce che man mano. Repubblica Biciclette con Manuel Sendhi, prima cosa freddo eh? Ma adesso qua su sì, ma prima stava bene. Hai la bocca tutta piena di sale, le baci sono piena di sale. Vado che man mano. Ciao, ciao.